La questione dei vaccini si è posta varie volte, in vari momenti. E l'influenza, poi abbiamo avuto l'epidemia di morbillo. Io ricordo cinque anni fa, abbiamo salvato la vita con la circolazione extracorporea a un quarantenne, marito di signora Novax, che ha preso il morbillo. Il morbillo da adulti è una roba terrificante. Ed è stato salvato con l'extracorporea. Polemiche, storie, un'epidemia di morbillo europea per l'abbassamento della percentuale dei vaccinali. Abbiamo fatto polemiche sul vaccino anti-influenzale, eccetera. Allora, in questo momento il mondo, la nostra economia, il nostro modo di vivere, che ci piaccia o no, non ne abbiamo uno di riserva, sta crollando sotto questo, diciamo, impulso da coronavirus. Per cui, in questo momento, è imperativo liberarsene o comunque metterlo sotto controllo. Non ci sono altre soluzioni. Cioè, occorre fare quelle poche cose che conosciamo al momento che funzionano. Il discorso dell'obbligatorietà è l'estrema razio. Nel nostro paese si deve cercare di non arrivarci. Però i tempi non sono tempi di pace. Cioè, stiamo soffrendo moltissimo, come pianeta in generale. Per cui si può arrivare, se la copertura non è sufficiente, a determinati tipi di vincolo. Cioè, nel senso, tu fai un mestiere frontale, sei commesso, sei farmacista, sei professore, ti devi vaccinare, se no non puoi fare il tuo mestiere. Cioè, voglio dire, tu fai smart working da casa, sei uno scrittore, te ne puoi fregare. Cioè, voglio dire, questa è una prima forma di vincolo. Se no poi si arriva anche a, diciamo, a dei provvedimenti di salute pubblica. La salute pubblica va difesa. Cioè, io, con la mia libertà di non vaccinarmi, non posso condizionare quella che è la salute degli altri. Siccome io ritengo che il vaccino non sia uno strumento valido, non me lo faccio, però in questo modo metto a rischio gli altri. Questo non ho diritto di farlo in un momento del genere. Ecco, voglio dire. Anche nell'ambito degli operatori sanitari ci sono delle persone dubbiose. Non vedo ragione a questi dubbi, ecco. Se sono dei dubbi in generale sul vaccino, per carità, se ne può discutere. Però in questo momento noi stiamo combattendo una battaglia contro il Covid. Quindi abbiamo bisogno del vaccino che è l'arma più efficace, più straordinaria che possiamo avere. Ci aspettiamo che arrivino anche altri vaccini, quindi sicuramente andremo avanti a vaccinare con la vaccinazione per alcuni mesi. Ci vorrà un po' di tempo sicuramente per maturare quest'immunità di gregge, che significa la copertura almeno del 60-70% delle persone. Quindi io invito calorosamente gli operatori sanitari e le persone a vaccinarsi. Grazie. Grazie.